Un grave pericolo turistico, economico, sanitario, di sicurezza ambientale e di libertà per la nostra democrazia è quanto si legge in un volantino diffuso dai residenti del quartiere Torraccia contrario alla realizzazione di un biolaboratorio per il quale lamentano poca trasparenza e molti dubbi. Come ci spiega Marco Palanghi, tutto è iniziato dall'autorizzazione concessa dal Comune di Pesaro alla vendita di un terreno pubblico per la creazione di un laboratorio di biosicurezza tra via Furiassi e via Grande Torino dietro la vitrifrigo che sarà gestito dall'istituto zooprofilattico di Marche e Umbria Togo Rosati. Nella delibera si precisa che si tratta di una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell'uomo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico. Ma non solo, si prevede anche un'area complessiva di 15.000 m2 nella quale verranno realizzate anche delle stalle per la stabilazione di grandi e piccoli animali. Il terreno, ha spiegato il residente, è a rischio inondazioni e la zona è considerata paludosa in quanto è vasca di contenimento per il fiume Foglia. Oltre al rischio sismico, si trova nelle vicinanze di strada il quanto trafficate, di un eliporto, del depuratore cittadino, di un parco giochi e vicino a 400 famiglie residenti. Daremo battaglia, assicurato, insieme al coordinamento Marche e Provincie Unite, affinché ciò non avvenga. è stata già lanciata una petizione per la quale stiamo raccogliendo firme in tutta Italia. Si è ben chiaro che non siamo contrari al miglioramento del nostro istituto zooprofilattico qui di Pesaro, ma quello che ci preoccupa è il livello BSL3, che è un livello di sicurezza che prevedono protocolli di cui non siamo stati informati ed è proprio il tema della sicurezza che ci preoccupa. Ovunque sono presenti questi biolaboratori abbiamo notizia che almeno ci sono due o tre criticità al mese che sono delle situazioni di pericolo. A scendere in campo anche la lupus in fabula che chiede risposte certe e urgenti. In una nota l'associazione ambientalista ha riportato le dichiarazioni del direttore dell'istituto Vincenzo Caputo, il quale aveva riferito che non si fanno sperimentazioni nemmeno genetiche perché questo non è nelle nostre strategie. Un concetto ribadito anche dall'assessore Pozzi. Il fatto che sarà un centro più innovativo, aveva dichiarato, non significa che all'interno verranno eseguiti esperimenti in laboratorio e manipolazioni genetiche. Rassicurazioni che non convincono i residenti e il caso arriva in Regione. Infatti il presidente della Commissione Sanità, Nicola Baiocchi, ha convocato i responsabili dell'istituto per mercoledì 18 gennaio al fine di chiarire i dubbi e rendere noti i progetti. Ci preoccupa lo stallaggio di piccoli e grandi animali che potrebbero procurare oltre al cattivo odore, la puzza, anche la questione degli agenti infettivi come le zanzare e la gestione dei liquami e delle carcasse e alzare di livello la gestione degli animali con sperimentazione in vivo e in vitro, come viene detto dalla stessa delibera che loro stessi scrivono. Quindi noi ci atteniamo allo scritto e non alle parole che ci vengono dette per rassicurarci. ci preoccupa perché c'è chi ci dice che sarà uno spallanzani degli animali ma qui la quarantena non è finalizzata alla guarigione di questi animali ma alla sperimentazione, ovvero vengono portati animali sani qui fatti a malare per verificare poi l'evolversi delle malattie e capirne poi le eventuali cure. ma questo secondo me, dato le tante battaglie che abbiamo fatto sulla vivisezione, sulla gestione di laboratori lager sugli animali, la cosa è veramente insopportabile umanamente. Quindi voi siete qui per chiedere non lo spostamento ma addirittura di non farlo proprio questo biolaboratore? Noi siamo contrari a queste pratiche ovunque esse si facciano perché non è spostando i problemi che questi si risolvono. Vediamo solo del business, troppa tecnologia e poco cuore.